canemacchina colpisce un palo clamoroso poi lotta continua tanti tiri le parate del portiere di cane per dire no lotta che gioca bene cane prova a ripartire si infila negli spazi come in questo caso colpisce sul portiere ancora lotta continua ma il portiere fa buona guardia e poi nel secondo tempo arriva il gol del vantaggio con una bella azione azione fotocopia anche per il raddoppio il 2-0 di canemacchina nel finale azione di lotta real tarallo tutto facile per lui contro river state arriveranno sei gol li vediamo ognuno più bello dell'altro perché tutte le soluzioni provate e realizzate da real tarallo soprattutto per via centrali perché river naturalmente si apre parecchio ma anche quando la difesa è più schierata si incune in aria con azione veloce tarallo che cala sei gol bellissima partita ruoppolo qui trova subito il portiere poi splendido gol all'indietro per il vantaggio ruoppolo reagisce crezi che sfiora il palo poi arriva bella anche l'azione è rapida per il pareggio ci prova ruoppolo nel finale sfiora il gol anche crezi alla sua chance ma qui la gran parata arriva all'ultima azione a 10 secondi dalla fine il gol della vittoria bravo a incunearsi dentro e a tirare subito ruoppolo sampdario il primo tirare in porta reagisce atletico bolis che però non inquadra i pali poi qui al rallentatore palo di sampdario al volo e poi arriva il gol della vittoria che deciderà questo incontro ci prova bolis un ottimo united che inizia a tirare un primo tempo con tantissime conclusioni qui l'incrocio dei pali contro doping qui la grande parata di doping ancora united che poi va in vantaggio la reazione qui il tiro di doping e poi arriva anche il 2 a 0 di slippy inizia a tirare un po' di